Carlentini, Covid-19, Nile e Carabinieri di Augusta controllano le attività produttive industriali e commerciali. I militari del Nucleo Carabinieri Spettorato del Lavoro di Siracusa, nettamente ai Carabinieri della Compagnia di Augusta, hanno eseguito nella zona nord della provincia servizi di controllo delle attività produttive industriali e commerciali nell'ambito dell'emergenza Covid-19, disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in ottemperanza alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. In particolare è stata sottoposta a controllo un'azienda logistica di trasporti su gomma di Carlentini al fine di constatare il rispetto del contenuto del protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra governo e parti sociali. Nell'attività venivano identificati complessivamente cinque lavoratori in regola, ma avevano i veniva riscontrata la mancata informazione ai lavoratori e all'utenza sulle disposizioni delle autorità mediante la fissione di apposita cartellonistica, l'assenza di distributori di igienizzante per le mani, la mancata indicazione dei percorsi dedicati ai fornitori, l'assenza di un protocollo aziendale anti-Covid, nonché la mancata istituzione del Comitato Aziendale di controllo sull'applicazione del protocollo anti-Covid e la mancata sanificazione degli ambienti. A seguito di ciò veniva combinata la relativa sanzione pari a 3.000 euro e informata la Prefettura di Siracusa per l'applicazione dell'eventuale sospensione dell'attività.